Mi sembra incredibile fare una mini recensione su questo grande classico di Paolo Coelho Il manuale del guerriero della luce, ma è quello che farò. Se anche tu come me svolgi un lavoro da imprenditore nel campo artistico ormai saprai bene che bisogna sviluppare infinite abilità tipo Superman forza di volontà, costanza, perseveranza, resilienza e chi più ne ha più ne metta ma per fare tutto ciò bisogna avere il giusto mindset e la giusta motivazione. Se è la prima volta che guardi un mio video, io sono Alex Rider, produttore tecnico del suono e fondatore della community Produttori Motivati. In descrizione trovi il link per raggiungerci nel nostro gruppo Telegram. Dai, ti aspettiamo! Come ormai ben sapete, in questa rubrica io vi parlo dei libri che hanno cambiato in meglio la mia vita e grazie a loro ho potuto trasformare la mia passione per la musica in un lavoro vero ma soprattutto mi hanno aiutato a superare quegli ostacoli che inevitabilmente incontriamo sul nostro cammino. Questo libro qui, assolutamente da comprare. Ma che cos'è di tanto speciale per renderlo un capolavoro? Sono poche pagine scritte in maniera molto semplice. Faccio prima a leggervene un pezzo, voglio vedere se riesco ad incuriosirvi. A volte il guerriero della luce si comporta come l'acqua e fluisce fra gli ostacoli che incontra. In certi momenti resistere significa venire distrutto. Allora egli si adatta alle circostanze. Accetta senza lagnarsi che le pietre del cammino traccino la sua rotta attraverso le montagne. In questo consiste la forza dell'acqua. Non potrà mai essere spezzata da un martello o ferita da un coltello. La più potente spada del mondo non potrà mai lasciare alcuna cicatrice sulla sua superficie. E così via. Non voglio spoilerarvi nulla perché come ben sapete in questa rubrica non faccio le recensioni dei libri ma vi spiego in quale momento della mia vita e come mai sono riusciti a cambiare completamente il mio modo di pensare. In particolare questo libricino che raccoglie una marea di aforismi, una sorta di mini racconto io non saprei come descrivervelo. È assolutamente da leggere. Quando l'ho visto sullo scaffale la prima volta ho letto la frase che c'è scritta qui dietro. Di solito scrivono un papiro con tutta una marea di cazzate, dell'autore eccetera. Qui c'è scritto soltanto Il guerriero della luce crede. E poi che crede nei miracoli? I miracoli cominciano ad accadere. Sembra una roba religiosa ma vi assicuro che è bellissimo e vi consiglio caldamente di leggerlo più e più volte. In particolare in quelle situazioni in cui magari state cominciando a perdere fiducia in voi stessi. Ecco, io l'ho letto proprio in quel momento lì. Mi ha aiutato tantissimo a superare un brutto periodo della mia vita. E se posso essere sincero con voi lo leggo spesso ancora oggi. Ok, questo è tutto. Trovate il link del libro per acquistarlo su Amazon in descrizione. Io prendo una piccolissima percentuale. Il costo per voi rimarrà naturalmente invariato. A me date veramente un grande aiuto a supportare il canale e a portarvi sempre nuovi contenuti. Iscriviti, aziona il campanaccio e ci becchiamo alla prossima. Iscriviti, aziona il campanaccio e ci becchiamo alla prossima.